Amelia, 6. Prova sulla sufficienza. Mai impegnato seriamente dagli avversari. Avrebbe potuto causare il rigore con un'uscita infelice ai danni di Heather. Per sua fortuna l'arbitro non concede il penalty. Rami, 7. Realizza la rete del 2-0 e disputa nel complesso una partita davvero buona. Ormai ho una garanzia al centro della difesa. Abate, 6. Tanta corsa e grande attenzione per la fase difensiva. Constant, 6,5. Una prova davvero positiva. Supporta l'azione offensiva e si sacrifica in fase difensiva in più di un'occasione. Zaccardo, 6. Prova di ordinare amministrazione. Fa il suo compitino senza problemi. Montari, 6,5. Fa la differenza al centro campo catturando numerosi palloni e accompagnando la manovra offensiva con grande tenacia. Saponara, 6,5. Bella partita. Corre molto e si propone senza alcun timore dimostrando grande intraprendenza. Per poco non trova il gol della domenica. Honda, 5,5. Buon primo tempo in cui distribuisce alcuni palloni interessanti. Cala nella ripresa fino a scomparire gradualmente. Montolivo, 6. Il metronomo del gioco del Milan. Distribuisce sapientemente i palloni che gli altri centrocampisti conquistano facendo partire l'azione. Tarapt, 7,5. Ancora una rete per il talentuoso centrocampista. Una costante spina nel fianco della difesa blucerchiata. Pazzini, 6. Combatte per tutti i 90 minuti impensierendo la difesa avversaria in più di una circostanza. Spesso aiuta la squadra a salire guadagnando anche qualche calcio di punizione interessante.